La risposta per il contingente e la visione per il contingente. Se all'inizio erano 80 i sindaci che avevano sottoscritto l'appello per la sua candidatura alla presidenza della Regione Marche, oggi la lista è arrivata a contarne ben 120 in rappresentanza di oltre la metà dei comuni marchigiani e Maurizio Mangialardi ha voluto incontrarli questa mattina a San Severino Marche nella splendida cornice del Teatro Feronia. Le Marche all'opera è il titolo scelto per l'occasione. Siamo qui, ha detto Mangialardi, non solo perché è nella mia indole raggiungere gli obiettivi in squadra, ma perché le recenti emergenze, quella economica, il terremoto e il Covid, hanno cambiato il nostro mondo e ci impongono di giocare con regole nuove. Il candidato del centro-sinistra ha focalizzato l'attenzione su cinque temi principali che costituiranno i pilastri del programma della coalizione. Il primo è quello della sanità e dei servizi. Faremo delle Marche un campus di formazione per medici e personale sanitario, ha precisato. Dobbiamo ridisegnare i servizi sanitari e sociali più vicini alle comunità. Altro punto caldo è quello del sisma che fin dalla sua discesa in campo Mangialardi ha individuato come ferita da sanare al più presto. Avremo un assessorato alle aree interne, ha annunciato, e chiederemo al Governo centrale la deroga per istituire un assessorato alla ricostruzione. Al centro del programma ci sono anche l'occupazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rilancio dell'economia, puntando sull'accesso al credito e sulla semplificazione per rendere più competitive le imprese. Passando a parlare di turismo e cultura, terreno agevole per chi ha governato Senigallia per oltre dieci anni, Mangialardi ha spiegato, pensiamo a un turismo di qualità. La Regione deve implementare progetti di ospitalità diffusa e sviluppare infrastrutture di collegamento dalle ciclovie al recupero di percorsi ferroviari dismessi che servono a garantire la ripartenza e il rilancio. La conclusione del suo intervento Mangialardi l'ha dedicata al tema delle pari opportunità. Se c'è una cosa che distingue la nostra proposta politica è la capacità di pensare più debole a chi ha perso il lavoro o non lo ha ancora trovato. Noi, diversamente da altri, non siamo contro e non alziamo muri. Al contrario, a concluso, pensiamo che pluralità sia ricchezza e che i nostri giovani debbano sempre più essere messi in grado di competere nel mondo.